Siete una famiglia che ama il web un mondo meraviglioso che a volte può nascondere insidie. Tu sei felice perché un SMS promette di accreditarti un buono da 1000 euro, ma vuole solo i dati bancari. Tu ridi perché una mail ti ha promesso un pacco di prodotti grati, se invece è un pacco e basta. Tu hai fatto acquisti su un sito con offerte pazzesche, ma non riceverai mai nulla. Ma che dici? Io da un sito non sicuro non compro niente. Ma voi siete i Navigati! Esatto! E teniamo al sicuro i nostri dati personali e finanziari. I Navigati, informati e sicuri. Seguici su inavigati.it